salve a tutti amici di youtube vi chiedo di sedervi o sdraiarvi in un luogo a voi comodo nel quale sapete di non venire disturbati per i prossimi dieci minuti ascoltate preferibilmente questo audio con degli auricolari o delle cuffie per altre meditazioni cliccate nel link qui sotto in descrizione chiudete gli occhi lentamente e concentratevi sul vostro respiro come dico sempre rispetto tutte le religioni e tutte le meditazioni che garantiscano l'amore e il benessere per l'essere umano ed è per questo che oggi ho deciso di creare questa meravigliosa meditazione cristiana il mantra cristiano è maranatha e significa vieni signore gesù oppure il signore viene questo mantra è stato detto da gesù non pensare tanto al significato della parola ma al suo suono quando ispirate ripetete mentalmente o a voce alta maranatha e quando ispirate ripetete maranatha adesso fate tre respiri profondi per entrare in questa meditazione ispirate l'aria dal naso ispirate l'aria dalla bocca ancora 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 una volta ispirate 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 l'aria dal naso ed ispirate l'aria dalla bocca ora respirate normalmente mentre continuate a ripetere il mantra cristiano quando inalate quando inalate maranatha e quando esalate maranatha inspira maranatha espira maranatha 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 adesso rimarrò in silenzio mentre voi continuate a ripetere il mantra Cercate di rimanere concentrati fino alla fine della meditazione. Maranatha 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.